ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video io sono fox e in questo video ti faccio vedere come ho riparato questo pacco batterie allora in questo momento ho una parallelo di celle in carica questo è un pacco batterie agli ioni di video con celle 18 650 della samsung il modello dovrebbero essere 28 e cioè da 2008 cada uno è un pacco batterie ragazzi nuovo però l'ho acquistato online l'ho preso a una cifra bassissima a confronto del valore stimato diciamo del prodotto nuovo perché perché ragazzi il pacco batterie non funziona il pacco batterie infatti risulta rotto o meglio in uscita abbiamo zero volt ho fatto un'analisi iniziale per andare a capire quale possa essere il problema e in questo caso l'elettronica va bene le celle vanno bene però qual è il problema è che tutto il pacco batterie dalla prima all'ultima è scarichissimo tutte le celle sono intorno agli zero volt questo vuol dire ragazzi che ovviamente senza diciamo saper mettere mani potresti solo andarlo a buttare o meglio potresti andare a smontarlo recuperare le celle e se l'attrezzatura giusta rigenerare e riutilizzare le celle singole però io cosa voglio fare voglio rimettere in moto questo pacco batterie dato che l'elettronica va bene dato che la cavetteria i connettori tutto l'assemblaggio le saldature sono perfette l'unico problema che il problema di fondo è che il pacco batterie scarico al 100 per cento scarichissimo poi in uscita questo dovrebbe dare in uscita 56 volt se non sbaglio 56 60 non mi ricordo e perone da zero e qualcosa uno massimo due volt ma parliamo di da 61 vuol dire zero completo e non è il problema di elettronica perché l'elettronica funziona alla perfezione non abbiamo componenti bruciati il problema sta nelle celle le celle sono scarichissime ora io cosa sto facendo ogni tanto do una controllata alle temperature da una controllata al mio display sto andando a ricaricare porzione per porzione perché ti spiego questo per dare nuova vita un pacco batterie o riparare rifarlo funzionare non sempre devi cambiare devi sostituire perché tante volte ci sono delle dei paralleli che sono scarichi avendo paralleli scarichi l'elettronica non funziona più bene non funzionando più bene spegne tutto perciò in uscita sul connettore non avrà intenzione di conseguenza il tuo motore che sia un motore non ti cammina più perciò l'unica prima cosa da fare diciamo misurare i voltaggi dei vari delle varie connessioni sulla bms se vedi che tutte hanno 4 volt 3 volt 3 volte 24 volte 2 e una o due anno 0 volt o meno di 3 volt quelle sono quelle diciamo che hanno interrotto il funzionamento cosa devi fare ovviamente facendo tanta attenzione ragazzi perché sono pericolosi possono esplodere devi ricaricare solo il settore scarico al 99 per cento al 90 per cento delle volte basta una semplice ricarica come quella che sto facendo io in questo momento morsetto 1 morsetto 2 già ho ricaricato questo morsetto con questo morsetto e queste stanno ora tre volte 7 prima erano a zero oltre ragazzi tutte ovviamente sono ora cariche ora sto facendo la stessa cosa con questo o tre volte 4 come menzione 5 ampere corrente di ricarica 17 47 watt massimi questa io la dovrò ripetere su tutti i morsetti fin quando non ho tutto il pacco batterie carico a sufficienza non avendo neanche il caricabatterie fatta apposta dovrò andare a ricaricare così per il momento ragazzi niente per questo video è tutto mi raccomando non buttare nulla cerca di riciclare cerca di riparare ciao e al prossimo video